La San Gataldese si avvicina al derby con l'entusiasmo della prima vittoria in campionato conquistata domenica al Valentino Mazzola contro il Pompei. La compagine verde amarando guidata dal tecnico Razio Pidatella nella serata di martedì è stata coinvolta nell'entusiasmo dei propri tifosi che hanno incitato Dolendi e compagni per le vie di San Gataldo. Convocato anche l'ultimo acquisto il centrocambista Danilo Abbate dove nell'ultima stagione ha militato nella nuova Igea Virtus.